Ciao a tutti, sono Gianluca Argenoni, mi trovo allo stand Mares SSI, mi occupo per loro di sviluppo di nuovi prodotti e mi occupo anche per SSI, per la parte didattica, per far crescere un po' tutto quello che è il movimento legato all'apnea. Mares da quest'anno ha incrementato quella che è la linea specifica per il freediving, abbiamo nuove maschere che al di là della linea molto bella e molto idrodinamica, con volume ovviamente ridotto, sono maschere bianche quindi anche un pochino più fashion. Poi abbiamo pinne, abbiamo tutta una serie di nuove pinne e poi abbiamo anche una serie di strumenti utili per l'apnea, quali che può essere il lanyard, il cavetto di sicurezza che è fondamentale per immergersi in sicurezza, soprattutto oltre ai 25 metri di profondità. Abbiamo atolli, abbiamo un nuovo modello, una nuova linea di atolli che non è una semplice boa ma consente all'apneista di immergersi in acqua in maggiore sicurezza, con un alloggio centrale dove poter mettere il cavo di discesa, qua dove poter mettere chili in eccesso, chili in avanzo, questa è la situazione ottimale per una sessione di apnea in acque libere, quindi un atollo in superficie, il cavo di discesa, un piattello d'arrivo e l'apneista a fianco collegato al cavo con un lanyard. In questo modo l'apneista può scendere in massima sicurezza e comfort. Credo che ormai l'apnea sia diventata una realtà importante per quello che riguarda le attività subacquee e costato giornalmente che il movimento è in continua crescita. Bene, ora avete visto tutti i nuovi prodotti, avete visto Bore, avete visto Lineard, avete visto Mute. Vi invito tutti a provarli direttamente in mare ed immergervi con me il prima possibile. Ciao a tutti!